Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Oggi avete lezione con me e oggi parleremo della proclamazione del Regno d'Italia. Andate nel libro dello studente a pagina 138, in fondo quindi il paragrafo è l'Italia unita, questo qui. Poi il secondo paragrafo è questo, i problemi di pagina 139, i problemi del nuovo regno. Ok, volevo precisare che è avvenuta il 17 marzo, la proclamazione del Regno d'Italia. Sotto vi lascio un glossario con le parole che non conoscete e allo stesso tempo vi lascio anche delle domande che comunque io ora vi leggo. La prima è quando avviene la proclamazione del Regno d'Italia e chi la fa? La seconda è quali opere letterarie nascono? La terza è quale problema deve affrontare l'Italia unita? Questa domanda si riferisce al paragrafo di pagina 138. Ok? 4. Il governo, come combatte l'analfabetismo? E 5. Ultima, quali sono le differenze tra l'Italia del nord e quella del sud nel nuovo regno? Quindi questa qui riguarda il paragrafo di pagina 139. Poi aspetto che me le mandiate per i Dukai e sto avendo una foto, la iscrime nel quaderno e poi mi inviano una foto. E niente, buon fine settimana, questo compito è per mercoledì prossimo. Buon fine settimana e noi ci vediamo mercoledì. Ciao chicos!